musica 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 si chi è? borbolotti sono bufrizio ma che sei impazzito ma sei neanche pronto di core sono ma che è sta musica a tutto volume oh ma bufrizio aspetta che ti apro la porta no non devo aprire la porta dobbiamo stare distaccati non apre la porta borbolotti ma quindi la lascio chiusa? e che devo fare abbofrizio? devi abbassare la musica anzi se ne vado a dormire sono le due di notte borbolotti no abbofrizio c'hai ragione che annoio annoio proprio e certo non riesci a dormire quindi che facciamo alziamo la musica e svegliamo tutto il vicinato ma dai borbolotti vado a dormire deve andare a dormire aspetta aspetta bufrizio eh prima che vai via com'è che faceva quella canzone di Gigi D'Agostino quella che ballavamo sempre in discoteca nel 2000 successore del 2000 di Gigi D'Agostino borbolotti vado a dormire per cortesia va bene? ecco a 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